Mi chiamo Ardiana Cehaio. Io ho appena compiuto 50 anni. Allora io arrivo da Milano però di origine sono albanese ma da 30 anni che vivo in Italia ormai sono cittadina italiana. Ho sentito tante volte di dottor Palmos dagli amici che hanno fatto i denti qui e si sono trovati bene. Poi tramite Facebook sono entrata a guardare. Mi è subito piaciuto come parla, come clinica. Mi è entrato proprio nel cuore e ho deciso di votarmi in questa avventura. Sono fortunata, ho trovato la persona giusta e così ho deciso di venire qui. Io siccome sono un po' onemica e mi manca un po' il ferro ho sempre avuto problemi con i denti perché poi anche con le gravidanze mi sentivo anche se ho fatto sempre l'igiene e la pulizia però non era mai abbastanza. I denti si cariavano, non lo so, magari una cosa anche genetica, non lo so, sempre triste. Sono un po' emozionata perché non mi sembra ancora vero. All'inizio un po' di paura, un po' di stress normale perché vai in un paese dove non conosci la lingua, le persone non sai niente però sai, visto che mi hanno detto tutti che puoi andare tranquilla anche da sola, che lì le persone sono brave, in clinica ti trattano come una persona di famiglia è stata così, davvero, te lo giuro con tutto il cuore. Tutti mi hanno detto guarda che sono bellissimi, sembrano i definitivi. Mi sono trovata bene, ho mangiato, non ho mai avuto problemi dall'inizio. Sei un'altra persona, sorridi sempre più felice. Sì. Sì.